E che non c'è dubbio che Bignamino Netanyahu è una cattivissima persona, un uomo sotto processo, un autoritario che è super impopolare e che può fra uno o due mesi, a fine febbraio, o anche cadere, se ci sono elezioni il 27 febbraio in Israele, locali, se Benny Gantz, il suo partito vince, cade Netanyahu a marzo. Quindi ci sono queste possibilità e speriamo, perché io personalmente detesto questo modello di un Orban. Netanyahu è simile a Donald Trump, a Viktor Orban, a Erdogan, è molto così, non ha nessun rispetto per lo Stato di dritto, per le corte, eccetera. Quindi questa è la premessa. Poi io vorrei dire qui a Tagadà che non bisogna confondere genocidio, che è una parola pesante che riferisce all'esterminazione di una razza o di una nazione, come nel caso delle armeni. I turchi nel 1915 hanno fatto genocidio contro gli armeni. Adolf Hitler, nella seconda guerra mondiale, in Germania e anche in Italia, ha fatto fuori 6 milioni di ebrei e milioni di cattolici, omosessuali, Roma e altri dissidenti e minoranza. Questo si chiama genocidio. Quello che gli studenti di università in piazza New York o Londra o Roma chiamano genocidio è la reazione di un Israele attaccato da un gruppo terroristico che finora, si stima, secondo l'intelligence americana, hanno ucciso 8 o 9 mila delle 40 mila combattenti dei terroristi Hamas. Meno di un quinto. Quindi quello che non è genocidio, che purtroppo, tristemente, tragicamente sono morti altri 12 mila o 15 mila civili. Ma questo è guerra. Io spero che Netanyahu cade perché secondo me dopo Netanyahu l'Israele farà un cessato al fuoco e si porterà a casa gli ostaggi. Questi sono gli obiettivi. Ma Netanyahu è colpevole di essere un estremista. Ma ricordiamo, non è genocidio reagire a difendere il tuo paese contro i terroristi che si nascondono fra i civili per non essere uccisi. Allora, evidentemente.